Da questo punto di vista qua invece abbiamo una situazione dei permessi, queste ditte che lavorano qua dentro sono tutte ditte con regolare concessione demaniale, cioè il demanio ha regolarizzato da tantissimi anni l'occupazione di queste aree. Allora, dopo metteremo in via riservata per voi anche l'elenco di tutte le ditte, nome e cognome che ci sono dentro perché non possiamo segnare sulla delibera come il solito ma è importante per voi vedere per valutare la possibilità. Di questa parte qua, quella linea che vedete rossa praticamente è quella di intervento nostro, di questo accordo. E di queste sotto che vedete, quelle che sono in colore rosso, 10, 12, 9, 8, 7, queste strutture sono legittime. Cioè a queste strutture sono state date anche il condono, ho permesso di costruire, una volta si chiamava concessione quello che era, e dunque sono legittime. Queste che vedete che stanno dalla parte finale che vi ho fatto vedere prima, sostanzialmente queste invece gialle sono due strutture che sono state diniegate dal punto di vista del condono. Dunque sono abusive rispetto a questo, avevano fatto quel condono e il condono non è stato rilasciato. Ce n'è una anche, non so quale, dopo magari la vedo, perché so che i giorni scorsi abbiamo perso una causa per questa cosa qua che invece obbliga il Comune, ha detto al Comune che ha sbagliato di negare il permesso e dunque chiede al Comune di provvedere rispetto a questo. Però insomma questo è il precedente, ma insomma è la sostanza, cioè far capire di cosa sta succedendo. Queste che vedete qua, due, quattro, cinque, sei, sono tutti dei container, dei container di tipo quelli che si fanno i trasporti, che però vengono usati per mettere dentro delle merci, per fare degli uffici e tutto questo. Quest'area qua invece, voi lo vedete nel progetto, è destinata a qualcos'altro. In questo momento nell'accordo non c'è niente, ma poi vi faccio vedere cosa c'è là dentro rispetto a questo. Ovviamente tutto questo ve lo metto a disposizione poi rispetto a questo.